Ciao a tutti cagnacci, questo è Breaking Daily, lo show che va da lunedì a giovedì. Facciamo mercoledì perché ho un lavoro pesante, nemmeno andassi in miniera, quindi facciamo fino a mercoledì. Come ben sapete, in questo show trattiamo le notizie in maniera cool, le trattiamo cool, trattiamo le notizie, volevo dire, leggo le notizie in maniera cool, e questo vi sembrerà appunto che io faccia informazione. Ma passiamo alle notizie del giorno. Prima notizia. Allora, a quanto pare l'Europa ha preso delle misure, sono delle misure, sono delle misure economiche. Aspetta, sono un po' difficili perché ci stanno tanti stati che devono fare delle cose. Ma lo spiego. Fefifo. Ed ora passiamo alla notizia che poi mi servirà per mettere una tetta, un culo in copertina, e soprattutto fare il titolo semi-pornografico, gossip. Quindi buttiamoci le tette di Sara Tommasi. Sara Tommasi tira sempre, mi fa fare un sacco di views. Tetti, Sara Tommasi, lei che va a ritirare un banco, Matt. Soldi. Mettia. Mi serve per l'anteprima. Non è una vera notizia. Ho trovato, ho trovato... No, ho trovato una notizia che però non è in tendenza su Google Trend. Come posso fare views? Non prendo... Ah, un attimo, vado a vedere Philippe DeFranco Show e torno. Ok, gentaccia, sono tornato. Ho visto Philippe DeFranco Show. Philippe DeFranco Show. Direi che siccome tre notizie le ho messe io, e in genere la mia media è due di Philippe e tre mie, tre mie e me ne mancano soltanto due, ve ne posso mettere quelle due. Vabbè, per stavolta ve lo linko, vi linko il canale di Philippe DeFranco, scegliete voi un po' cosa guardare. Ciao.